Un solo obiettivo, la vittoria per l'Astica affronta sul neutro dell'Ottolenghi di Acqui del relitto Acquanera con la volontà massima di ritrovare il dolce sapore dei tre punti. Mister Fossati schiera dal primo minuto sia Ghigliazza che Cotellessa, entrambi i nuovi acquisti e punta in partenza sul 4-2-3-1. Un saluto da Davide Chicarella che sotto la regia di Tony Chiri Reiso racconterà per voi questo match. C'è subito un calcio di rigore in favore dei Biancorossi sul punto di battuta Berbere, rincorsa ed è gol. Vantaggio per i Galletti quando sono passati appena sette minuti dall'inizio della gara. Tutto si mette per il verso giusto, quindi per Totolo Russo e compagni. Attenzione intanto al calcio d'angolo, sul punto di battuta c'è Amedeo Celeste, nuvolo di giocatori all'interno dell'area. Arriva al cross, grande stacco di testa, Totolo Russo, il gol del capitano, 2-0. In assoluta scioltezza, Lasti quindi raddoppia. La vittoria non dovrebbe assolutamente sfuggire ai ragazzi allenati da Fossati. C'è subito una battuta di un calcio di punizione, cross di Tommaso Maggiora, grande sforbiciata, ancora in proiezione offensiva da parte di Totolo Russo. La palla finisce alta di poco sopra la traversa. Batte subito il calcio di punizione il team ospite, avanza sull'out di destra, potrebbe arrivare un traversone. C'è l'apertura, ecco subito il cross rimpallato, prova a ripartire l'acqua nera, pasticcia un po' all'interno dell'area un giocatore. Recupera palla Oltian Berberi, grande finta di Berberi e col sinistro sotto al 7 il raddoppio personale da parte del centro avanti, 3-0. Ancora palla controllata al limite, prova a ripartire in contropiede Lasti, con l'iniziativa affidata da Medeo Celeste, imbucata verso il centro di Celeste, un contrasto. Ancora Berberi, 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 clamorosamente non riesce a inquadrare lo specchio Oltian Berberi. Prova a reagire l'acqua nera di Mister Sala, ma recupera ancora una volta palla Lasti. C'è l'opportunità sull'audi sinistra, avanza palla al piede, il tiro e per poco non arriva il gol di Rizzo. Attenzione intanto al calcio d'angolo, c'è a Medeo Celeste, una deviazione sfortunata da parte del numero 2 Alessandrino, arriva al quarto gol di Lasti. Scambio in assoluta tranquillità tra Lisa e Lorusso, potrebbe arrivare un lancio lungo. Eccolo, c'è ancora un tocco in avanti, a Medeo Celeste, a Medeo Celeste, prova Celeste, battuta rete, respinge il portiere, arriva il tris personale di Oltian Berberi. Sono 5. C'è ancora un corner in favore dell'Asti. Ecco il cross, sfiora Alessandro Rizzo ed è la sesta rete, galletti tennistici all'Ottolenghi di Acqui. Pronto? Dimmi, ciao.